Sì, grazie Presidente. Un emendamento di coordinamento rispetto ad altri che abbiamo già presentato, che già sono contenuti in realtà nel documento unico di programmazione e che riguarda la trasparenza delle attività, degli atti, degli organi consigliari. Come sappiamo, andrà in aula il nuovo regolamento dell'accesso agli atti, che riordina tutto l'accesso documentale e tra le varie attività, ma anche nel piano triennale anticorruzione, oltre che la legge, prevede che l'amministrazione possa prevedere ulteriori atti, dati, documenti da pubblicare. Quindi abbiamo esteso questo obiettivo anche al segretariato, perché anche nelle attività poste in essere al segretariato si rende necessaria l'attuazione, l'attivazione di queste politiche, finalizzate ovviamente a dare la possibilità ai cittadini di conoscere meglio quello che viene fatto nell'amministrazione. Grazie.